Il sottosegretario alle imprese e al Made in Italy, Massimo Bitonci, nel nostro studio di Roma. Grazie di essere con noi, bentrovato. Grazie a voi per l'invito. Bitonci, le obiezioni, le critiche che arrivano dal sindacato, fino a che punto sono condivisibili? E tra le misure proposte da bombardieri, o diciamo criticate, ma si capisce da che parte si vorrebbe che si andasse, ce n'è qualcuna che si potrebbe mettere in campo anche subito? Intanto io penso per quanto riguarda l'incidente che c'è stato all'impianto idroelettrico, che bisogna aspettare gli accertamenti da parte della magistratura. Poi abbiamo sentito anche le interviste fatte in queste ore da parte dei responsabili, che parlano di primarie ditte esperte anche del campo, che erano state quindi prese per queste manutenzioni. Quindi io sinceramente aspetterei, prima di fare qualsiasi tipo di giudizio, o accumulare questo evento ad altri eventi, dove mi pare sia stata certificata la mancanza di verifiche, di formazione, di sicurezza, di tutto quello che diceva in maniera assolutamente corretta. Il governo sta lavorando su queste misure, sono previste ulteriori assunzioni per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, anche se io continuo a ripetere che poi le verifiche post sono di grado assolutamente inferiore rispetto a tutta l'attività di prevenzione che deve essere fatta, e quindi partendo dai lavoratori, partendo da chi è responsabile del cantiere, partendo dai progettisti, partendo quindi dal rispetto delle regole primarie. Quindi io penso che si debba lavorare soprattutto su questo campo. Dopo le ispezioni vanno assolutamente bene, devono essere effettuate, però come succede sempre anche in altri campi, il numero l'abbiamo visto nel campo della guardia di finanza per quanto riguarda le verifiche fiscali, oppure anche al mio ministero per quanto riguarda le verifiche del sistema cooperativo. Puoi fare tutte le verifiche che vuoi, però dopo alla fine le problematiche non emergono in maniera così consistente. Quindi assolutamente la prevenzione, la formazione, il controllo e responsabilizzare chi è progettista e responsabile dei cantieri. E quindi ampliare anche le pene. ...e' assolutamente comprensibile che c'è un tema molto importante e estremamente delicato legato alla sicurezza del lavoro. Io penso che questa innovazione di questa patente a credito sia estremamente importante. Poi per quanto riguarda il resto, le critiche vanno bene, però dobbiamo anche capire che per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo indeterminato non c'è mai stato un risultato così ottimale come quello dello scorso anno, che tra l'altro è replicato anche nei primi mesi di quest'anno. Perché ricordiamo che il tasso di disoccupazione è sceso ed è il migliore degli ultimi, almeno degli ultimi dieci anni, se non anche di più. Ci sono state 490.000 assunzioni lo scorso anno, una maggior parte di questi sono contratti a tempo indeterminato. Il governo ha agevolato, mediante misure di carattere fiscale e contributivo, la trasformazione dei contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato. Ci sono alcuni settori, ma questo dipende ovviamente dalla tipologia del settore, dove ci sono ancora e continueranno per la tipologia del settore, come in ambito turistico o nei settori in cui i lavori ovviamente sono volutamente di carattere stagionale e occasionale, dei contratti che sono dei contratti con questa tipologia che chiede anche il mercato. Però mi sembra assurdo dire che non c'è stato un aumento invece che è stato determinato anche da scelte, anche del governo passato, perché ovviamente del governo passato e anche di questo governo, a favore della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e sta nei numeri, quindi non nelle chiacchiere. Ma abbiamo ragione di poter credere al Ministro dell'Economia e che troverete i soldi per finanziare il taglio del cuneo fiscale. Facciamo finta che sia scritto sul DEF, come li trovate? Intanto io penso che qui sta, al di là di quello che diceva la collega Guerra, sia assolutamente una soluzione, quella di presentare il tendenziale in linea con molti paesi europei, infatti molti paesi europei seguiranno questa linea italiana. E' abbastanza chiaro, insomma a parte invertita, probabilmente la guerra avrebbe detto la stessa cosa magari qualche l'anno scorso, due anni fa. E lei si sarebbe lamentato? No, non l'avrei detta, non l'avrei detta. E' abbastanza chiaro che è molto difficile fare, preparare un DEF programmatico e che è meglio rinviarlo alla Nadef ed è un'operazione trasparenza a settembre. Ricordo come questo DEF conferma i dati della Nadef dell'anno scorso, cose che difficilmente, io in molti anni come la guerra che seguo il documento di economia, le leggi di bilancio, non ho mai visto un DEF confermato e neppure una Nadef. Quindi è un'operazione assolutamente, io penso assolutamente trasparente. Poi a settembre, Giorgetti ha ripetuto più volte che prima del 20 settembre verrà presentato il quadro programmatico. E poi mi lasci dire, insomma, i dati del super bonus sono dati che modificano... La seguo sul ragionamento, ma possiamo dirci... Ogni mese, e non ero al governo io, ero al governo... Possiamo sperare che la Nadef... Anche tu, anche tu. Vitonci, possiamo sperare che la Nadef... Io ero nel governo Ponte 1, l'avete fatto quel governo Ponte 2... Allora, Vitonci, possiamo sperare che la Nadef arrivi un po' prima e abbia dentro il programmatico? Ma sicuramente, cioè sicuramente la Nadef arriva prima perché la discussione sul patto di stabilità europeo, così come modificato, è prevista nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi per settembre si avrà un quadro completo per poter predisporre per la Nadef il quadro programmatico. Ricordo anche che sono previste anche tutta una serie di dismissioni, che è previsto anche l'avvio del concordato preventivo biennale dove ci saranno maggiori entrate. Noi pensiamo maggiori anche rispetto a quelle previste, visto la possibile adesione da parte di moltissime partite IVA del concordato preventivo biennale. Ci sono delle soluzioni che possono essere trovate anche all'interno del bilancio. Sì, ma in questo caso è difficile fare promesse. Siamo oltre la sinistra. No, purtroppo è la verità, guardi, perché è chiaro che la competizione elettorale di giuro... Si può essere stato un programma poi smentito è una cosa, ma se c'è il tendenziale, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di alcune regole. Mi spieghi dove sono le promesse elettorali? Me le spieghi, cioè le leggono... Sì, sì, no, no, lo lasci dire. Non possiamo neanche qui raccontarci le ragionate. Faccio io quello che fa le domande. Perché siete due contro uno, quindi... Anche perché non mi tiro mai indietro. Guardi, guardi, guardi... Guardate quei vostri amici che hanno voluto il super bonus che ci costa 200 miliardi, ma non a noi, ai cittadini. Cioè, noi non eravamo al governo, che sia chiaro. Come non è il governo. Non eravamo al governo, non è il governo, tu eri al governo. Eravate tutti al governo. Nel 2020 è cresciuto del 40% la spesa. Ma ci sono stati tre anni per fermare, tre anni per fermare, tre anni per fermare. Ci sono stati tre anni per fermare, e se tu parli, parlo anch'io, non c'è chi l'è. Non si faccia tacere tutte e due. Mi stupisco di voi, non le 5 stelle. Tu non lasci parlare, perché è un po' un due contro uno, devo ammettere. Fallo finire, fallo finire, se ne hai coraggio, poi rispondiamo. Fali parlare. Come stai parlando voi questo? Voi questo, voi questo. Viete al governo da un anno e mezzo, non l'avete fermato niente. Nel 2023 è cresciuto molto di più. Cioè, bombardieri in silenzio, non è mai successo. L'avete scaricato sui governi, sui governi successivi. Bombardieri chiude velocemente, e poi il punto di vista fisico, però senza bombardieri chiude, avevo detto che purtroppo avrei guastato... Bombardieri, io sono dottore commercialista, non so cosa fa lei nella vita, eh. Facciamo stare. Io sono un modestissimo ricercatore che si occupa di sicurezza prestato al sindacato. Non ho... Allora, faccio io la domanda... Stiamo in chiusura, fra pochissimo avrò le borse... Sto chiedendo... Sto chiedendo... Sto chiedendo... Fatemi fare una domanda a Bitonci. Mi spiega perché questo... Dire che questo è un DEF elettorale, per il fatto che non vi siete sporcati di mani, dicendo da che parte sareste andati, è un errore? Bitonci. No, no, la risposta è di Bombardieri, che ha detto che ci sono... Dov'è la parte programmatica di questo documento di economia e finanza? Me lo spiega lui, dov'è la parte programmatica di questo... Non c'è la mia domanda... No, non c'è la mia domanda... Bombardieri, per favore... La mia domanda è questa, nel senso... Il fatto di dire... Vediamo lo sviluppo del super bonus, vediamo quale sarà il patto di stabilità riformato europeo... Avresti dovuto spiegare dove recuperati 24 miliardi... Sarebbe stato più facile promettere qualsiasi cosa dopo sconfessarla?